segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sì 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 l'abbiamo trattenuta oltre oltre il pattuito grazie a carlo bifani vedo in collegamento francesca pace la ringrazio veramente moltissimo perché inviata a ramalla per la stampa e so che sta ovviamente lavorando tantissimo in condizioni anche difficili e quindi grazie francesca so che puoi stare con noi qualche minuto volevo chiederti però ci tenevo particolarmente perché comunque sei sul campo sul territorio e nella parte palestinese quindi volevo chiederti cosa sta succedendo diciamo le il tuo punto di vista e guarda che cosa possa succedere adesso dopo dopo l'ospedale di ieri sera a Gaza è difficile dirlo e certamente certamente quanto è successo ieri sera è in qualche maniera il cigno nero cioè fino adesso eh con eh numero di morti eh finora mai visto e con un livello di scontro ehm anche 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 diplomatico così forte si era riuscito in qualche maniera a tenere anche questa ehm questo questa seconda visita di del presidente americano Biden e e anche il continuo eh andirivieni di ehm rappresentanti delle dei paesi eh europei eh qui ehm a Gerusalemme a Tel Aviv eh anche nei paesi arabi circostanti eh aveva lo scopo eh di cercare quantomeno eh di di evitare l'inevitabile ossia in questo momento l'invasione di Gaza e mh e soprattutto l'apertura dei corritoi umanitari e però quanto è successo ieri sera eh è un po' come quanto sta succedendo sul confine con Libano si tiene la situazione a un livello eh diciamo di eh sanguinario equilibrio ma può esserci un evento che scatena la guerra definitiva così è in Libano dove ero l'altro giorno al confine con Metulla eh dove eh ci sono scontri non c'è una grande voglia di allargare il conflitto da nessuna delle due parti né da parte eh di sbollani da parte di Israele ma può bastare un incidente ecco in questo caso eh questo bombardamento dell'ospedale di Gaza su cui adesso si stanno rimpallando le responsabilità eh vedremo ehm footage vedremo eh video e per capire la cosa su cui non c'è molto da capire che ci sono centinaia di morti dicono da Gaza anche mille morti la maggior parte di queste persone erano rifugiate lì perché eh appunto eh eh i bombardamenti israeliani chiedono prima dei bombardamenti israeliani chiedono eh l'hanno richiesto ancora stamattina di spostarsi verso sud e le persone non sanno dove andare quindi lì c'erano cinque cinque sei mila persone che si trovavano nell'ospedale non come pazienti ma come eh rifugiati che avevano eh si erano appoggiate lì perché non potevano scendere ancora più basso verso Rafa e la rabbia del dell'Arabia araba eh è anche un eh come dire un grande ehm un grande tabù che è sempre anche stato utilizzato eh dai governanti dei paesi arabi e certamente in Cisgiordania eh la rabbia c'è è una rabbia molto eh compressa è una rabbia molto compressa perché l'autorità nazionale palestinese eh sebbene addetta eh di chiunque non rappresenti più eh realmente eh le ambizioni e le esigenze del popolo palestinese di fatto controlla la Cisgiordania una rete di sicurezza molto forte eh e quindi eh nei giorni passati venerdì scorso qui a Gerusalemme venerdì che doveva essere della rabbia non è stato ma anche in Cisgiordania ha eh ha mantenuto in qualche maniera eh eh qui c'è un problema con il collegamento eh dall'inizio sì ci sono almeno 60 morti ai checkpoint delle varie città eh palestinesi in scontri con l'esercito con i coloni quindi la situazione non era tranquillissima neanche nei giorni scorsi è chiaro eh quindi questo questo è il clima e è stata l'autorità eh palestinese anche a cancellare il l'incontro con Biden questo è sì a questo punto era una reazione diciamo era una reazione quasi dovuta sì perché due giorni fa il presidente Abu Mazen dopo un lungo silenzio eh aveva eh condannato in una telefonata con eh il collega venezuelano Maduro l'azione di Hamas eh salvo essere immediatamente bersagliato dai suoi anche dai suoi dell'autorità nazionale palestinese di Fatah eh per una dichiarazione considerata fuori luogo in un momento in cui si ritiene da parte palestinese è certo si deve essere uniti quindi per per forza